Aquario marino, 60 litri, poche cose, però l'ho salvato da poco, ma guardate il mio Nemo che è familiarizzato con l'eufiglia. Eh sì, poi ci sono dei bei coralli, discosomi, litofiton, sarcofiton, un po' il vetro sporco, scusate. Vediamo se riesco, eccola lì, la Calaustrea, e sempre il Nemo che si diverte. Uno spettacolo. Nel mio Aquario ce l'ho fatta.